Chiara Ferragni vola a Londra per la Friese Art Fair, incurante delle vicende legali in Italia. Mentre in Italia è al centro di un'indagine per un presunto caso di truffa aggravata, Chiara Ferragni ha deciso di concedersi una pausa dalle preoccupazioni volando a Londra. La celebre influencer si è recata al Friese Art Fair, evento annuale che richiama appassionati e collezionisti d'arte da tutto il mondo, e ha fatto tappa al Museo di Friese, dove ha posato accanto opere d'arte e sculture, affascinata dal loro impatto visivo. Quest'anno la fiera ha posto l'accento su nuovi artisti e designer emergenti, segnando l'inizio di un'importante stagione culturale. La manifestazione, che si conclude il 13 ottobre 2024, si è preparata con entusiasmo per l'arrivo di ospiti di spicco, tra cui la Ferragni, che ha deciso di non mancare a questo importante evento nel panorama dell'arte contemporanea. Per Chiara, questo viaggio non è solo un'occasione per distrarsi, ma anche per immergersi nel mondo dell'arte internazionale, un settore che ha sempre dichiarato di apprezzare. Tuttavia, mentre si lascia catturare dai riflettori londinesi, le vicende legali in Italia continuano a fare notizia, e i suoi fan si chiedono come evolverà la situazione al suo ritorno.